buongiorno a tutti l'applicazione che andremo a vedere è strip generator strip generator è un servizio online che permette di creare fumetti grazie a questo app potrete trovare tutto ciò che vi serve per creare il vostro fumetto come disegni personaggi scenari e vignette una volta aperta la home page compariranno diverse sezioni dove si potrà accedere al tuo profilo registrarsi creare una nuova vignetta o vedere le vignette create da altri utenti la pagina di registrazione è chiara e intuitiva ti chiede un username una password una mail per creare un fumetto non è necessario registrarsi basta cliccare su create new strip la schermata di creazione di un fumetto è abbastanza semplice si può decidere infatti la disposizione e il numero di vignette inoltre si possono anche decidere che personaggi usare che oggetti usare per la vignetta e che cosa scrivere allora interno questo lo si può fare per ogni vignetta che si deciso di usare inoltre solo per utenti premium sono disponibili dei temi da utilizzare una volta finita la creazione della propria vignetta cliccare su finish qui ti chiederà di inserire un titolo dei tag e una breve descrizione a questo punto sei pronto per pubblicare la tua vignetta basta cliccare su publish e dopo breve tempo questa sarà disponibile ciao 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 ciao